Qual è la connessione tra diabete e sistema immunitario? Il diabete è definito come l'incapacità dell'insulina di regolare lo zucchero nel sangue sano a causa dello stile di vita o della genetica, tuttavia, ci sono momenti in cui il diabete si sviluppa in risposta a un malfunzionamento all'interno del sistema immunitario. Si sa che il sistema immunitario e il diabete sono collegati nel diabete di tipo 1, poiché questo tipo di diabete è spesso una malattia autoimmune. A volte, il diabete di tipo 2 può derivare da un problema con il sistema immunitario, in quanto un'infezione virale o batteri potrebbero causare insensibilità all'insulina. Non è raro che il diabete causi una diminuzione della funzione immunitaria, aumentando il rischio di ammalarsi. È stato dimostrato che il diabete e il sistema immunitario sono direttamente collegati e che un sistema immunitario debole o malfunzionante può causare sintomi diabetici in alcuni individui. Il diabete di tipo 1 colpisce circa il 5 a 10% della popolazione ed è spesso associato a una malattia autoimmune. Quando un individuo sano viene invaso da batterie estranei o da un virus, il sistema immunitario lavorerà per attaccare quel virus o batterie e distruggerlo. Con il diabete di tipo 1, il sistema immunitario in realtà indirizzerà erroneamente i suoi segnali per attaccare i batteri e invece attaccherà le cellule beta dell'insulina nel corpo. Quando le cellule beta dell'insulina vengono attaccate da un sistema immunitario difettoso, viene prodotta poca o nessuna insulina per aiutare a regolare i livelli di zucchero nel sangue e riportarli alla normalità. Il diabete di tipo 1 e il sistema immunitario vengono esaminate attentamente quando si studia la salute di un individuo che soffre di basse energie e affaticamento. Sebbene l'esercizio e una dieta appropriata siano necessarie per mantenere un sistema immunitario forte, i medici concordano che l'unico trattamento per il diabete di tipo 1 e il malfunzionamento del sistema immunitario sono le iniezioni giornaliere di insulina. Se la terapia insulinica non viene somministrata a questi pazienti ogni giorno per aiutare a controllare i livelli di zucchero nel sangue, è altamente possibile che un paziente possa cadere in un coma diabetico. Il diabete di tipo 2 può anche essere il risultato di una malattia autoimmune, tuttavia, la maggior parte dei casi di diabete di tipo 2 sono spesso associati a fattori di stile di vita non salutari. Se la glicemia diventa incontrollabile l'insulina viene sempre secreta, ciò può avere un effetto diretto sia sul diabete che sul sistema immunitario. La funzione immunitaria depressa può essere spesso causata da alti livelli sia di zucchero nel sangue sia di insulina, specialmente se questi livelli sono mantenuti alti per un lungo periodo di tempo. Si raccomanda molta attività fisica per i diabetici di tipo 2 per mantenere sotto controllo il livello di zucchero nel sangue e per mantenere forte il sistema immunitario.